E' cresciuto nel 2021 l'impegno delle cooperative per la sostenibilità. Il 69,3% delle cooperative associate, secondo l'ufficio studi di Conf Cooperative, ha intrapreso almeno una iniziativa riconducibile ad alcune delle principali tematiche dello sviluppo sostenibile. In particolare il 25,2% ha optato per l'acquisto o l'utilizzo di materiali di minore impatto. Il 18,9% ha avviato percorsi formativi e informativi interni sulla sostenibilità. Il 13,4% delle cooperative si è indirizzato verso il riciclo e il riuso dei materiali, anche di scarto. Infine l'11,8% delle cooperative ha scelto di promuovere l'eco-innovazione e di investire in tecnologie rispettose dell'ambiente. Grazie a tutti! Grazie a tutti!